Io ti sento benissimo, sì, nella tenuta di Barbara Pasetti sono state trovate tracce biologiche di un soggetto di sesso maschile e queste tracce sono state confrontate con tre DNA, quello del padre di Barbara Franco Pasetti, quello dell'ex marito Gianna Andrea Toffano ma anche con quello di Ramon Christian Pisciotta che ho qui con me. Chiaramente è importante capire dove sono state trovate queste tracce, se all'interno del vano tecnico dove è stata trovata la pistola con cui forse è stato ucciso Gigi Bici se sono state trovate queste tracce all'interno dell'auto di Luigi Criscuolo chiaramente acquisirebbero queste tracce una rilevanza diversa perché ancora si cerca un possibile complice di Barbara ma appunto è stato fatto il test del DNA anche a Ramon che ho qui con me. Quando l'è stato fatto questo test? Allora il test è stato fatto mercoledì scorso, sì. Ho stato contattato gli inquirenti, mi hanno chiesto se avevo qualcosa in contrario con questo esame, assolutamente no. Quindi lei è andato lì tranquillo ma lei ha incontrato più volte Barbara Pasetti, dove l'ha incontrata, cosa le ha chiesto Barbara durante questi incontri? L'ho incontrata un paio di volte al cimitero qui di Pavia e poi l'ho incontrata al Carefor, zona parcheggio. Cosa le ha chiesto Barbara, con chi era Barbara durante quegli incontri che sono avvenuti mi sembra la sera, no? Intorno alle 19. Intorno alle 19, esatto. Allora il suo pallino fisso era sempre quello di sistemare il marito per i primi due appuntamenti. Lei si presentava col figlio sempre in macchina. E cosa le chiedeva Barbara? Appunto mi chiedeva di continuare il lavoro che era stato ingaggiato Gigi. Ma Barbara è mai stata, scusami Nicola, è mai stata Nicola, scusami, scusa Nicola, Ramon mi aiuta a capire una cosa. E' mai stata esplicita? Perché se a me qualcuno mi chiedesse, vedo che Fabrizio Carcano è d'accordo, se qualcuno mi dicesse devi sistemare mio marito, io ho una domanda alla famiglia, sistemare cosa vuol dire? Cioè lei gli ha fatto questa domanda o no? Sì, sì, sì. Sì, era molto diretta lei. Cioè Barbara ha detto devi uccidere mio marito? Guarda, il sistemare, comunque, ha utilizzato il nome sistemare ma era diretta. Perché ha evidenziato comunque il suo marito, la picchiava e quindi, cioè si capiva. Però non è mai stata diretta... Quando tornava a casa aveva dei problemi, quindi dovevamo... Non è mai stata diretta dicendo devi uccidere mio marito. Ha sempre usato la parola sistemare. No, la parola uccidere, sì, esatto, sì. Però io francamente gliel'avrei chiesto però, Ramon, mi sarebbe venuto un po' il dubbio. Ma per sistemare cosa intendi? Devo dargli una lezione? Devo picchiarlo? Devo fargli tanto male, poco male? Io tentavo sempre di parlare... Sente? Sì, 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 Ramon. Tentavo sempre di parlare il meno possibile. Non è che... Stavo dicendo che tentavo sempre di parlare il meno possibile. Quando comunque una persona che non conosci arriva a un appuntamento e ti fa delle proposte del genere, non è che apri subito un dialogo diretto, un attimo provi a capire la situazione. Certo. Nicole, prego. Però lei ha... Le ha anche chiesto... Le ha offerto dei soldi, quanti? Lei dice parlava di 20.000 euro e arrivava anche a 30. Per finire quello che Gigi aveva iniziato così, le aveva detto? Esatto, sì. Sì, il problema è che Gigi non ha iniziato a fare niente. Nella casa di Barbara, nella tenuta. Sì, ma i tempi non si sapeva. Cioè, col senno di poi si sa adesso, ma all'inizio non è che avevo questa visione dei fatti. Ecco, Ramon, mi scusi la domanda un po' diretta. Lei con Gigi, con Gigi Criscuolo, ha mai lavorato al di là delle discoteche? Cioè, è mai andato con Gigi, per esempio, a recuperare dei crediti, dei soldi? O è mai andato con Gigi a dire a qualcuno che doveva... Mai, mai, mai. Quindi lei non è mai andato con Gigi a recuperare soldi e crediti? Prego. No, ho lavorato solamente per Gigi quando, penso che era il titolare del locale Club Maxima San Martino, ma fuori da quel lavoro lì non l'ho mai neanche frequentato, diciamo. Tanto è vero che Gigi non aveva il suo numero di telefono, no? Tanto è vero che non aveva il mio numero di telefono. Infatti, poi ho sentito anche in una vostra trasmissione che un parente ha detto che Gigi in verità mi cercava per un recupero crediti di 450 euro. Sì. Assolutamente impossibile. Lei non ha mai fatto un recupero crediti. Infatti, io non ho mai fatto il recupero crediti. Sì, dico, non l'ha mai fatto il recupero crediti lei, dico. Lei ha chiesto se lei ha mai fatto il recupero crediti. No, ho fatto il recupero crediti, ma Gigi non mi ha mai chiesto di fare il recupero crediti. Quindi l'ha fatto ma non per Gigi. Come funziona il recupero crediti, diciamo? No, li ho fatti in passato il recupero crediti, ma non ho mai lavorato per Gigi a fare il recupero crediti. Poi, non so... No, 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 ma richiedevo come funziona. Come funziona? Come si richiede un credito? Basta andare dalla persona? Come funziona? No, allora, recupero crediti inteso... Recupero crediti non funziona come è arrivata ad esempio Barbara che ti chiede un servizio del genere. Recupero crediti va più che altro per amicizia, che magari ti chiedono, guarda, c'è il mio amico che mi ha... o questa persona che ho lavorato che mi ha fatto, chiamiamolo, un pacco di tot soldi, dammi una mano a recuperarli oppure vieni con me all'appuntamento e basta. Quello è recupero crediti. Quindi basta la presenza, diciamo, un po' lo capisco, no? Cioè lei si presenta con... Basta la presenza, esatto. Basta la presenza. Infatti è per questo il motivo che crescuolo... Questo... sì. Prego, prego Ramon, prego. Questo è il motivo perché crescuolo mi ha contattato. Questo è il motivo perché crescuolo mi ha contattato. Sì. Perché bastava, secondo magari crescuolo, la presenza quel giorno per uscire da un eventuale casino. Perché facevo un attimo... Cioè fa tipo l'effetto dello spaventapasseri. Lo spaventapasseri non fa nulla, però qualcosa fa. Spaventa, infatti, e su questo ci siamo. Monica Leffreddi vuole chiedere... No, volevo chiedere, Ramon, se lei per caso ha mai saputo di questa ingente somma che il papà della Pasetti avrebbe prestato a Toffano, che insomma ha parlato di centinaia di migliaia di euro. Se per caso Barbara le ha mai anche parlato di questi soldi che doveva in qualche modo recuperare? No, no, non ho mai parlato di questo, no. Quindi solo di sistemare, mai di... Il progetto di Barbara... Esatto. Il progetto di Barbara, quando ci siamo visti all'appuntamento, era proprio quello di portarmi a casa sua. Allora, eppure, arriviamo tra poco, torniamo da Nicole Di Giulio e da Ramon, però eppure diciamo che in questa famiglia, nella famiglia Toffano e Pasetti i soldi fossero un problema, un problema vero, non lo diciamo ovviamente noi, lo dice il papà di Barbara. Che a un certo punto così racconta sempre Nicole Di Giulio della separazione tra Barbara e il marito, come il marito è cambiato, ma anche di questo prestito importante che avrebbe fatto, anzi possiamo togliere il condizionale, lo dice lui, che ha fatto al Toffano. Vediamolo, è il quarto servizio. A quando risale l'allontanamento tra sua figlia e Gianandrea? Perché poi è una separazione di fatto, ma non di diritto ancora, no? Allora, di fatto sicuramente, ma non lo so, adesso sarà stato ottobre, novembre, non mi ricordo più di sempre. Del 2020. Quando Gianandrea è andato a abitare da un'altra parte. Quindi dicembre, novembre, dicembre 2020, tra loro c'è un raffreddamento dei rapporti. Che si erano inclinati tanto tempo prima. Ma lei sua figlia ha mai raccontato il perché di questo? Di una volta sì. Di una volta sì, c'era stata una grossa discussione, poi Gianandrea mi aveva chiesto di intervenire economicamente per dargli una mano, io sono intervenuto, Barbara si era opposta e già lì si erano inclinati i rapporti. E a questa discussione c'era presente mia moglie, il papà di Gianandrea, la mamma di Gianandrea, e Gianandrea, quindi eravamo in sei. E questa discussione, il motivo era... Non posso dirlo perché sono legato con Toffano da un accordo di riservatezza. Però lei ha parlato di una richiesta di denaro da parte di Gianandrea. Mi ha chiesto se potevo anticipargli una certa cifra per problemi suoi, io così l'ho fatto, basta. Ma lei ha prestato un'ingente somma di denaro a Gianandrea Toffano che ancora non le ha restituito? No, neanche una lira. Tutto questo è nato quando eravamo presenti io, Barbara, i genitori di Gianandrea, lui praticamente eravamo in sei presenti, quando mi ha fatto questa richiesta io gli ho detto che potevo arrivare a un certo importo che poi gli ho dato e Barbara si era opposta e addirittura l'aveva minacciato di lasciarlo subito. Perché i rapporti tra l'altro già si erano inclinati tra loro? Poi si erano un pochino riappacificati o almeno così a me è sembrato finché poi per altri motivi che insomma non vi posso dire si sono ulteriormente incrinati ma tanto. Un segreto dietro la loro separazione? No, assolutamente. Il segreto qui non esiste. Il segreto semmai è il perché io ho dato i soldi a Toffano quello sì, è una cosa con cui è un accordo di riservatezza che non vi dico poi di altri segreti magari c'è qualcosa che Barbara ha trovato che riguarda Toffano che lo troverete poi nel momento in cui presenterai i documenti per la separazione. Quindi Barbara potrebbe aver trovato qualcosa che... Potrebbe aver trovato. Allora dottoressa Bruzzone intanto abbiamo ricostruito questo momento in cui con tutti i familiari c'è una regione di famiglia dove c'è marito, moglie, genito e i rispettivi genitori dove Toffano a un certo punto mette sul piatto una richiesta importante parliamo di centinaia di migliaia di euro da quello che abbiamo capito forse cifre io ho parlato di mezzo milione di euro ma forse ci avviciniamo più alla cifra intera al milione visto che il papà di Barbara dice che l'eredità ricevuta dal Toffano probabilmente non basta coprire questi soldi e un patto di riservatezza tombale sul quale nulla deve trappelare però ti posso dire a me qualcosa non mi torna però con la massima onestà nel momento in cui io cedo una somma di denaro anche a titolo di presto personale e Barbara non vuole e Barbara non vuole Barbara è contraria quindi non è un debito di famiglia è un debito di Toffano sì perché diversamente sarebbe stata gestita in maniera diversa ma l'aspetto però curioso è io ti presto del denaro a te tu hai il problema a quanto ci ha fatto intendere il papà di Barbara il problema era di Toffano correggetemi se avete avuto una percezione diversa però ti firmo anche un accordo di riservatezza per coprire il tuo problema questo aspetto qua a me non torna minimamente cioè se io ho un problema chiedo soldi a mio suocero mia moglie non è d'accordo a questa richiesta ma mio suocero comunque mi concede questo importante prestito e nel contempo io che sono la parte debole perché gli sto chiedendo i soldi chiedo a te che se la parte forte che quindi puoi anche decidere di mandarmi a spigolare di mantenere il segreto sul perché io te li chiedo quindi ho in mano qualcosa l'unico adesso l'unico accordo di riservatezza che ci può essere in questi casi è io mi impegno a restituire tutta la cifra scaglionata perché do aiuto a Monica Setta scaglionata in un certo periodo in questo accordo di restituzione io metto nero su bianco che però tu non devi rivelare a nessuno i motivi segretissimi a quanto pare di questo prestito ho detto che però non è che abbia molto senso Monica Setta tutta questa non è un po' non è un non è un Monica Setta che è stato fatto Milo io credo che sia un patto come si chiama in finanza un patto parasociale cioè un patto tra privati non è che sono andati dal notaio non ho messo nero su bianco no? no la scrittura privata ha valore tra le parti quindi ci può stare ci può stare ci può stare ma perché? sì ma perché? questo non non lo so siccome si redigge una scrittura privata è chiaro ma perché? ti sembra normale che ma sicuramente mi sembra che sicuramente ci sia qualcosa da nascondere quando si chiedono queste cose quando si chiede un obbligo alla riservatezza è perché ci sono delle cose o da non dire o probabilmente delle cose in corso dei patti che devono essere aggiornati delle contrattazioni permanenti questi sono i motivi io non altro non so immaginare però nel momento in cui io chiedo una cifra ingente di denaro a mio suocero tra l'altro contro il volere di mia moglie per di più gli chiedo di sottoscrivere un patto di segretezza tra me e lui come giustamente diceva prima la dottoressa Bruzzone c'è qualche cosa che non torna cioè questo suocero ha qualche aspetto che noi non conosciamo oppure qualcosa che le deve all'onore della famiglia il nome della famiglia e però sarebbe stata d'accordo anche Barbara a quel punto è una questione tra loro due però accordo di riservatezza o meno il papà di Barbara dice quando saranno depositate le atti le carte relative alla separazione scoprirete il perché di questo prestito e il perché ma c'è un'altra cosa che dice la sentirete dopo il papà di Barbara dice ma in tutto questo dottoressa Bruzzone adesso arrivo da lei in tutto questo il papà di Barbara lo sentirete tra poco dice però perché uno che prende tutti questi soldi contestualmente si fa beccare questo lo dice il papà di Barbara e lo scrive il GIP dell'ordinanza con 33 mila euro di ammanco nel concessionario dove lavora cioè di quanti soldi aveva bisogno e per quale motivo aveva bisogno di tutti questi soldi toffano che non è indagato non è sospedone niente però comunque è un giallo nel giallo che forse può aiutarci a capire che è un ulteriore giallo perché questa scrittura privata a questo punto dirimente non viene data alla procura di Pavia nel momento in cui tua figlia è in carcere da due mesi con un nipote senza mamma se questa scrittura fa veramente la differenza a livello investigativo perché non sta consegnata al procuratore di Pavia questa è la grande domanda a cui il signor Pasetto credo che Pavia abbia già in mano tutte le carte inclusa questa credo proprio di sì anche perché se è in corso la separazione non è successo niente nel frattempo anche a livello cautelare mi viene da pensare che l'intendente non abbia questo effetto sulle indagini così rilevante potrebbe essere dottoressa Bruzzone poi vi sento tutti c'è un solo passaggio in realtà il suo ce lo dice una cosa un pochino diversa non dice che scopriremo i motivi di questo prestito o di questa cessione di questa somma non meglio quantificata ma dice quando la Barbara depositerà le carte da separazione saprete i motivi io per cui loro due si sono lasciati che cosa diversa che cosa diversa ma c'è anche delle indagini che sta facendo lui dice quello è comunque riservato però poi lei ha scoperto ulteriori cose cioè già lì si era inclinato il rapporto poi lei ha scoperto altro quello si lo troverete scritto quando poi presenterà le carte della separazione però nelle carte io ho inteso il motivo del prestito anch'io ho capito come l'altro anch'io abbastanza se volete lo proviamo se magari l'autore in studio se risentite il pezzo secondo me lui dice quando depositeremo le carte del divorzio capirete non il motivo della separazione ma il motivo del prestito io sono abbastanza convinto possiamo risentirlo perché la diretta ci espone anche a questo andiamo con Nicole Di Giulio e con Ramon Ramon quindi lei non ha mai sentito parlare di tanti soldi da parte cioè la Barbara Pasetti non ha mai detto guarda che mio marito ha tanti soldi mi deve dei soldi cioè è una questione economica Barbara ha sempre solo parlato di aggressioni molestie violenze non ha mai parlato di soldi solamente sul fatto che lei veniva no solo sul fatto che subiva violenze basta non ha mai accennato a soldi del marito o che o è eredita niente niente di questo posso fare una domanda? prego Ramon mi scusi ma durante queste trattative avvenute ben tre volte lei arriva a offrirle addirittura 30 mila euro per sistemare utilizziamo questo termine lei è criptica non le spiega cosa significa sistemare però se fosse eliminare non ha mani nude non ha mai fatto accenna un'arma ma ha qualcosa perché qui poi c'è un'arma in ballo no 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 accennava di di andare a casa sua ma non di utilizzare armi e quindi sembrerebbe allora sistemare a mani nude e quindi più fare delle lesioni picchiare ma non evidentemente togliere no no ma non penso che non penso neanche non penso neanche che intendeva mani nude intendeva solo di andare a sistemare sistemare una spranga a spaccare una gamba uno stop di queste aggressioni posso chiedere anche io una cosa Ramon mi scusi dottoressa Viola un conto però è sentirsi chiedere di fare il recupero crediti e quindi essere soltanto come diceva lei prima uno spaventapasseri un conto è sentirsi fare una richiesta di eliminare una persona voglio dire non le è sembrato un po' come mai Barbara Pasetti ha fatto a lei questa richiesta ha fatto a me questa richiesta perché io sono convinto poi saranno le carte a dirlo saranno tutte le prove sono convinto che Barbara abbia assistito alla telefonata che Gigi ha fatto a me sì quella mattina dell'otto novembre lei pensa che quella telefonata cioè quando Gigi cercava il suo numero quella mattina sì però allora Gigi ha cercato il mio numero tramite altre persone sì ma se Barbara non fosse stata presente quando Gigi parlava al telefono come faceva tramite i numeri che le ha visto sul telefonino a sapere che Gigi cercava me ma lei ha ricevuto una telefonata da Gigi quella mattina il suo nome in quelle chiamate Ramon lei ha ricevuto una telefonata da Gigi quella mattina no no non ho ricevuto telefonata da Gigi però conoscenti hanno ricevuto telefonate da Gigi il quale chiedeva di me mi cercava sì sì questo l'abbiamo l'abbiamo raccontato sicuramente l'abbiamo raccontato l'abbiamo raccontato winni